Volevo ricordare Nedo Settimelli, che è scomparso qualche giorno fa, colui che ha portato comunque il palio in TQ. E per questo volevo sentire comunque Amerigo, che lui comunque c'era abbastanza in contatto, anche voi, però magari Amerigo hai da dire qualcosa su Nedo Settimelli. Mi ricordo il primo palio che fece, una delle prime dirette, ancora non aveva la terminologia quella nostra, quindi parlava di quartieri, parlava di tifosi e quindi ancora non era all'interno, però era uno che cercava sempre il particolare, quindi l'anno dopo già cominciamo a migliorare la terminologia, eccetera, eccetera. Quindi è uno che ha fatto crescere il palio, ha fatto conoscere il palio a tanti e lui stesso è stato un grande amico del palio. Sì, ci ha sempre accontentato quando gli abbiamo chiesto un maggior risultato nei video che faceva, gli abbiamo chiesto il drone, ci ha sempre fatto di tutto per venirci incontro e accontentarci. Tant'è che gli ultimi video girati sono veramente spettacolari, soprattutto la parte dei droni. Prima non si riconoscevano i visi, più di una volta ho avuto a che fare e a discuterci sempre monariamente, però poi alla fine ci ha accontentato e le riprese sono notevolmente superiori rispetto a quelle di anni fa. Noi abbiamo già sentito la figlia, abbiamo fatto le nostre condoglianze, rinnoviamo l'abbraccio perché adesso il testimone passerà a Greta e quindi faremo con lei. Io per ricordarlo ho preso un piccolo pezzettino di video del 2001. Guardiamo un attimo insieme e ricordiamo questo grande uomo di televisione ma che ha fatto bene al nostro palio marinaro. Salve di Rioni di Porto Santo Stefano, un bene arrivato a tutti all'ascolto per questa diretta della sessantesima edizione del palio marinario di Monte Argentario. Io ho già accanto a me alcuni ospiti che poi tra l'altro devo liberare anche abbastanza velocemente perché per doveri istituzionali poi dovranno essere in un altro luogo. Io ringrazio nuovamente invece i nostri sponsor perché è grazie a lui che riusciamo a portare nelle vostre case queste stupende immagini di Porto Santo Stefano, di questo mare dal colore intenso bellissimo, soprattutto di un mare... Ancora una volta Luigi, io guarda oggi sono veramente al settimo cielo perché un aretino è orgoglioso di portare per la prima volta il palio in Europa perché proprio in questo momento il signor Costaglione ci ha ringraziato perché dalla Scozia hanno detto grazie e dei saluti.